... ... ... ... Immortalarle tutte e fare un sacco di foto per poi vederle durante l'anno per pubblicarle sull'Instagram, su Facebook, su tutti i social insomma, sul meraviglioso mondo di internet però non bisogna esagerare con uno smartphone perché c'è questo studio che dice che chiusa troppo lo smartphone a un reinforcing a un'altra cosa ... ... ... ... ... ... ... Grazie. Viale Palmiro Togliatti 1200. Viale Palmiro Togliatti verso Via Ventuletale. Hai visto? Una stella cadente. Uff amore me la sono persa. Per niente. Viale Palmiro Togliatti 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 Viale Palmiro Togliatti